Solo con Super Nintendo! Sì, solo con Super Nintendo hai sempre il massimo in prima visione! Soccer Deluxe si gioca anche in quattro, solo con Super Nintendo! The Mask è spumeggiante, solo con Super Nintendo! Full Trotter Racing, affassionanti gare di moto, solo con Super Nintendo! Toy Story, i tuoi grandi eroi, con Super Nintendo! Imbattibile anche nel prezzo, solo l'originale è G! Tutto il resto è Game Over!